Il quarto colpo in un anno e mezzo è esasperato. Marco Endrizzi, 36 anni, titolare del mito sport di Marostica, negozio di biciclette nuovamente preso di mira la scorsa notte. Via, quattro bici, tre da corsa, una mountain bike del valore di 13.000 euro. Un colpo pianificato nei dettagli, sono bastati pochi minuti ai malviventi che hanno agito con il volto coperto da passamontagna. Sono arrivati a bordo di una monovolume, in un orario inconsueto. Sono arrivati a meno un quarto all'una, quindi presto. Infatti anche io quando sono venuto qua di corsa ho trovato parecchie macchine ancora in strada ed è un orario insolito. Comunque questa volta hanno utilizzato appunto un attrezzo da cantiere con la spinta della macchina e quindi hanno urtato praticamente con la forza della macchina, hanno divelto l'entrata, il portoncino qua. L'allarme è scattato? L'allarme scatta subito, arrivano i messaggi, il commutatore telefonico fa tutte le serie di chiamate, quindi ci troviamo qua tutti, carabinieri, polizia, tutti qua a raccontarci la solita minestra. Il furto sì c'è ma è quello che ti lascia dentro che è brutto. C'è rabbia e soprattutto vi sentite abbandonati? È sempre quello che si dice ogni volta, è una cosa che ti deprime dentro. E il brutto è che se anche se li beccano, se li trovano, se li catturano, poi cosa li fanno? Gli mollano, quindi alla fine non si conclude mai niente. Magari domani li troviamo su qualche sito estero, bulgaro o chissà dove, là è la fine che fanno. Al vaglio dei carabinieri le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.